8-10 e oggi parte la nostra giornata insieme all'inizio di questa serie a femminile direi che è primissima mattina bisogna subito andare a fare colazione per ricaricarsi colazione fatta spesa fatta ci si mette a posto un pochino di musica per stasera con le ciabatte giuste però in comodità basso l'anno scorso davvero volley abbiamo i mondiali di beach gli europei che abbiamo vinto ma ovviamente prima di uscire bisogna fare una bella doccia prima di arrivare al plazzetto cappatina veloce in box dovevamo dare una controllatina alla moto per una cosa perché la mia grande passione oltre alla palo a volo tutto pronto quello che vedete la mia sacca con tutta quanta mia strumentazione oggi c'è anche una sacchettina perché dopo cambiamo cerchiamo di avere anche una vita sociale eccoci qua quindi arrivati molto presto perché si cerca sempre di arrivare assolutamente almeno due ore e mezza prima oggi abbiamo un po' anticipato la fine di campionato passano quei due miliardi e mezzo di cavi che serviranno oggi sono anche gli amici della rai oggi e qui dove ci andremo a mettere noi a breve non si arriva quando si arriva presto soprattutto si incontrano brutte persone come i ragazzi dei social perché abbiamo montato tutto e quasi tutto pronto lì vedete una spada laser vabbè chi viene la conosce la piccolissima scaretta che abbiamo ogni volta ragazzi un'altra delle cose più belle nel fare e avere e avere delle persone del gr da accogliere al palazzetto persone amici fessiello che ha l'aspetto più umano chi meno ma no ragazzi invece amici che mi sciocco così signore e signori benvenuti a una di quelle partite che non bisogna farsi raccontare mi dovete scusare ma non sono riuscito a fare tante riprese durante la partita perché proprio sono vado un attimo in trans agonistica e non penso più a nulla però vero vuole vince 3 a 1 e inaugura bene il campionato palazzetto sta svuotando la giornata sembra finita